Dottor Gabriele Pelissero, Presidente AIOP Nazionale. Intanto ricordiamo il ruolo importante di AIOP Nazionale. La nostra associazione raccoglie 500 aziende in tutto il paese, piccole, medie, grandi e grandissime, che costituiscono una parte fondamentale del Servizio Sanitario Nazionale Italiano. Sono strutture distribuite in tutte le regioni italiane e svolgono una funzione di ricovero e cura, sia ambulatoriale che in regime di ricovero ospedaliero, con una presenza complessiva del privato, di questa componente, ecco che poi vedremo se chiamare privato o come chiamarla, che rappresenta grosso modo ormai il 25% di tutta l'attività ospedaliera italiana. Quanto è importante il valore sociale proprio della cosiddetta sanità privata? Ecco, io vorrei chiarire un punto perché le parole ci confondono. Il valore sociale è altissimo perché noi qui non stiamo parlando di sanità privata. Noi stiamo parlando del sistema sanitario italiano che assicura a tutti i cittadini di questo paese le buone cure mediche di cui hanno bisogno. Il sistema è un sistema pubblico, nel senso che nessun cittadino è lasciato solo, tutti hanno diritto di accedere. Quello che cambia al suo interno è la gestione. Ci sono delle strutture, degli ospedali, delle attività che sono a gestione pubblica, altre che sono a gestione privata. Questo è un modello europeo, un modello presente in tutto il mondo sviluppato ed è un modello importante per il futuro perché contribuirà ad assicurare la sostenibilità del sistema. In questo momento molto difficile per la finanza pubblica e per i sistemi di welfare di tutta Europa. A proposito di efficienza, queste riforme sanitarie regionali? Le riforme sanitarie regionali sono l'inizio di un processo che noi speriamo virtuoso. Bisogna ricordare che l'Italia spende pochissimo per la salute dei propri cittadini e siamo molto bravi perché riusciamo a dare un buon servizio con una somma pubblica generale veramente bassa. Pensate che l'Italia spende come la Croazia, molto meno della Francia, molto meno della Germania, molto meno di altri paesi europei confrontabili. Con questo noi dobbiamo fare i conti e dobbiamo essere capaci di assicurare le prestazioni sanitarie, ospedaliere e destrospedaliere a tutti i cittadini a un alto livello di qualità perché giustamente gli italiani, e Veneto in particolare, sono abituati ad avere delle cure confrontabili con quelle migliori europee. Dobbiamo cambiare per fare questo, dobbiamo diventare più efficienti, dobbiamo lavorare meglio e questo è quello che noi ci aspettiamo dalle riforme che sono in corso nelle regioni. La parte di gestione privata del sistema pubblico è pronta a lavorare, in questo senso dare il suo aiuto. Grazie a tutti.